ciao ragazzi da stima simona ciao a tutti e benvenuti a tutti in questo video volevamo informanti che è attivo sul nostro sito online www.projectschool.it una nuova sezione dedicata a download di video gratuiti oppure a pagamento quindi una serie di video didattici che potete scaricare comodamente sul vostro telefono o sul vostro pc o tablet da vedere poi comodamente a casa oppure dove volete voi quindi andate sul nostro sito www.projectschool.it sezione download da lì potete scaricare tutti i nostri video intanto vi ricordiamo di cliccare mi piace e seguitici tutti i nostri social facebook instagram e youtube intanto vi ringraziamo per tutte le info comunque contattateci vi diamo l'appuntamento a presto sia nella nostra sede di turno e sui nostri social e sul nostro sito www.projectschool.it vi raccomando nuova sezione di download cliccate e guardatevi e vi raccomando scaricatevi tanti ok ciao a tutti ciao